Non ti puoi fare la doccia quando lo desideri, non puoi andare a dormire quando vuoi, cioè... Ah no, eh no, cara! Ah no! No! Ti lavi quando lui te lo permette! Ah, ah, questa! Vedrai quando sarà adolescente! Com'è possibile che ogni volta che dico speriamo che sia brava, poi c'è sempre qualcuno che mi dice Eh, vedrai quando arriverà la scuola, vedrai Terrible 2! Ogni fase della crescita di un figlio, ma è davvero così difficile? Che poi esattamente quante fasi ci sono? Allora sicuramente prima infanzia, età del gioco, età della scuola e adolescenza. Sì, ho cercato su Google, ve lo confesso. Altrimenti che mamma dilettante sarei? Chissà se anche per i miei genitori è stato difficile con me, devo chiederlo a mia mamma. Ve l'ho già detto che ero un maschiaccio? Ero spericolata, molto poco femminile e ho fatto tutti gli sport possibili. E molto spesso giocavo con mio fratello e i suoi amici. Certo, devo dire che avevo anche i poster dei Backstreet Boys e di Brad Pitt in cameretta, ovviamente. Ma chissà che ragazzino è stato Loris? Dovrei proprio chiederglielo. All'inizio siamo tutte mamme dilettanti, cheat by Martina Colombari che è qui con noi. Grazie Marti per aver accettato questo invito. Prima del ciak, prima del ciak. Mi è venuta fuori questa pillola di saggezza. È vero. Sono tutte dilettanti. All'inizio è così, è normale sentirsi così. È normale, stai serena. Assolutamente sì. Ma sono ancora dilettante a 48 anni con un figlio di 18, ti assicuro. Davvero? E infatti tu hai celebrato la tua maturità da mamma, ormai prestigi 18 anni. Sì, sì, perché non si finisce mai di imparare e quindi ti ritornano in mente le frasi delle nostre nonne, delle nostre mamme. È nella quotidianità di tutti i giorni che uno impara. Fa degli errori, sbaglia, si rimette in discussione, si confronta con altre mamme, condivide. È l'unico mestiere veramente complicato. Complicato perché è talmente meraviglioso che uno cerca di farlo nel modo migliore, no? Perché comunque per una mamma è differente. Perché ce l'hai in pancia per nove mesi. Sì. Sai che altra cosa mi hanno detto? Perché anch'io sono nella fase in cui sto chiedendo tutti i consigli, in cui cerco di documentarmi, di insomma avere più informazioni possibili. E una mia amica mi ha detto, secondo me non c'è un modo per essere mamma. Cioè non ti immaginare che ci sia un modo unico per tutte quante. Ognuna poi ha la sua storia, ognuno poi ha la sua esperienza e poi sarai mamma a modo tuo, ecco. Assolutamente sì. E poi ognuna ha il figlio o la figlia che si merita, ma nel senso che è giusto per te. Non ci sono mamme perfette. Nessuno di noi è perfetto, nel senso che ce c'era forse solo uno e a volte è stato messo in discussione pure lui. Quindi dobbiamo accogliere anche i nostri dubbi, accogliere le nostre incertezze e vedere questi figli crescere, prendendoli per mano. Io dico sempre che non bisogna stare né un passo avanti né un passo indietro, ma stargli di fianco. Difficile quando li vedi crescere perché ti senti un po' abbandonata, un po' come quando vieni lasciata da un fidanzato. Sì eh. Io non sono gelosa delle future fidanzate o mogli, moglie insomma che avrà, però l'idea che a un certo punto non ti puoi più prendere cura di loro. Proprio quell'aspetto dell'accudimento che io ho tanto, ce l'ho verso mio marito, verso le amiche, nel volontariato, cioè mi piace proprio rendermi utile per gli altri e in primis per mio figlio ovviamente, per Achille. E quindi l'idea che possa lasciare poi? L'idea che non devi più preparare la merenda, che non gli devi più mettere il piumone se ha freddo, l'idea di vedere se ha finito, se ha mangiato abbastanza da classica mamma italiana perché ne ho fatti mille di errori assolutamente, proprio perché sono una mamma italiana. Secondo me sarai così anche quando lui avrà 40 anni, ce lo tratterei come il tuo bambino anche quando sarà… Perché replico quello che ha fatto mia madre con me, è povera, io l'accuso, la sgrido, la rimprovero di essere stata troppo apprensiva. Mia madre mi ha avuta molto giovane perché aveva 17 anni e mio papà 20, quindi si è ritrovata a lasciare la scuola, si sono dovuti sposare perché lei era incinta e quindi tanta tensione, tanta ansia di non essere all'altezza e questo ha comportato a mettermi sotto una cupola. Non mi mandava in gita scolastica perché aveva paura dell'autobus, non si andava a ballare il sabato sera ma solo la domenica pomeriggio, mi accompagnava a scuola nonostante la scuola fosse alla fine del viale, quindi eri molto… Molto apprensiva. Molto apprensiva. E quindi tu sei stata diversa? Ho cercato di essere diversa ma inevitabilmente un po' replicato quello che la mamma ha fatto con me e io ad Achille spiego, guarda Achille che se la mamma è così è perché io quando ero piccola la nonna faceva questo, 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 quindi io cerco di… Lasciarlo libero. Però faccio fatica, faccio fatica. Ma questa, la fase che sta attraversando tuo figlio Achille adesso, cos'è? La fase più complicata o ci sono altre fasi complicate in mezzo? Perché si parla spesso di varie fasi, diciamo. Allora, la solita frase, bambini piccoli, problemi piccoli, bambini grandi, problemi grandi. Ah, questa mi mancava, vedi? Adesso me la appunto, adesso ancora non me l'avevo segnata. Non sono, non è l'adolescenza complicata, io penso che sia questo periodo storico ad essere molto difficile. Difficile per i nostri giovani a trovare un'identità, difficile per i nostri giovani, ad emergere, a dimostrare che sono qualcuno, a trovare un mestiere, ad esprimere le proprie idee, a sganciarsi dai social, prendere il buono dai social, ma non… Io dico sempre a mio figlio, le stories su Instagram durano un giorno, ma la vita è un'altra cosa. Il mondo reale non è quello, ma non ti ascoltano. No, no, non ti ascoltano. Si fa fatica a farti ascoltare. Assolutamente, sì. E voi avete fatto un'esperienza però dove i social non li avete utilizzati e ne avete fatte insieme. Sì, siamo stati a Pechino Express insieme, su richiesta di Achille. E' stato questo viaggio, questa trasmissione utilizzata un po' anche come una sorta di seduta terapeutica, assolutamente sì. Perché non ti ricapita di poter stare o di vivere senza senza gli agi della tua quotidianità, quindi senza soldi, senza casa, senza auto, senza telefono. L'aspetto più difficile è stato gestire la competizione, lo stress da gara, perché alla fine non è un viaggio, è un gioco, è una gara e devi vincere. Certo. Quello diventa difficile per un adulto, figurati in un ragazzo. Però è stato interessante, lui si è adattato benissimo, condizioni igieniche tremende, però non si è mai lamentato. Ecco, quando iniziava la gara a farsi più tosta, allora aveva un po' di cedimenti. E tornati da queste esperienze, il vostro rapporto è un po' cambiato, è migliorato, parlate di più, vi confidate di più? No, è migliorato, è migliorato perché lì non eravamo solo mamma e figlio, ma eravamo due concorrenti della stessa squadra. Quindi ci ha avvicinato e soprattutto a me è piaciuto perché lui ha visto una mamma non perfetta, ha visto una mamma che piange, ha visto una mamma che è in difficoltà, una mamma che crolla, perché altrimenti questi ragazzi hanno una sticella troppo alta, soprattutto essendo figlio di due personaggi famosi. Certo. Nessuno dei due è nell'ombra, agli occhi di tutti siamo famosi, popolari e quindi non è semplice per Achille. E come gliel'avete resa normale questa cosa? Come gliel'avete normalizzata il fatto proprio di essere dei personaggi famosi? È stato molto complicato, Diletta, perché dentro casa si riusciva, ma fuori casa veniva secondato in tutto. Quindi se i bambini in gelateria fanno la fila, lui veniva preso per mano dal gelataio, portato dietro al banco, vieni, fatti il tuo gelato senza rispettare la fila, anche se è mezzogiorno e io che non bestemmio perché non bestemmio, però dico no, fra mezz'ora deve mangiare. E quindi era molto diseducativo quello che avveniva fuori da casa. Certo. E quindi lui per un periodo ha pensato che gli era tutto dovuto e quindi la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l'autorità, cosa che in casa avveniva, ma fuori no. E tu e Billy siete sempre complici in questo? Qualche volta litigate anche voi? Cioè ci sono delle cose che tu vorresti che facessi e che lui invece a un altro punto di vista. Allora lui mi rimprovera di stargli troppo addosso e insomma il solito discorso, il ruolo della mamma anche è quella che deve rompere le scatole per quando sono piccoli, per lavarsi, per andare a letto, per fare lo zaino, per fare i compiti, anche se adesso questi papà sono un pochino più bravi, un po' più di bambitudine anche nella bambitudine, la bambitudine c'è adesso. E che mamma ti definisci tu Marti? Che mamma sei? Una mamma molto normale, nel senso che a volte faccio l'amica, a volte faccio quella che è più severa, però ho una bacchetta magica, non sono la fatina con la bacchetta magica, quindi spesso ho difficoltà anch'io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità, perché insomma se hai una scarpa rotta vai dal calzolaio, se hai un problema alla pelle vai dal dermatologo e non vedo perché se hai dei problemi nella gestione, in famiglia, tu non debba chiedere aiuto, il chiedere aiuto credo che sia anche una forma di grande intelligenza se vuoi. Adesso a me tra poco cambierà la vita, quanto mi cambierà da uno a mille? Allora guarda, se ti posso, io non sono brava a dare consigli e mio marito mi dice sempre che non si danno consigli perché finché non sei nella stessa situazione della persona che hai di fronte, uno è meglio che magari parla di sé e ti porta la sua esperienza, quello che io ho capito è che è stato bravissimo il mio ginecologo a farmi riflettere su questa cosa, che mi disse finché tu continui a fare paragoni e confronti con la Martina che eri prima della gravidanza, prima di avere questo figlio, ti sentirai sempre, non disadattata, però non ti sentirai mai in armonia. Quindi tu devi pensare che adesso inizia una nuova fase della tua vita e quindi devi pensarti una Martina differente, arricchita, una Martina che accoglie un nuovo momento della propria vita e penso che questo valga anche per le mamme più adulte quando devi affrontare una menopausa ad esempio, quindi di pensare che la vita evolve e in effetti e poi è stato utilissimo questo suo consiglio. Io non ho avuto la crisi post parto, però c'erano proprio delle dinamiche in casa o nelle mie giornate che non mi quadravano, cioè non ti puoi far la doccia quando lo desideri, non puoi andare a dormire quando vuoi, cioè ti lavi quando lui te lo permette. E poi nessuno insegna l'allattamento. Questa è una cosa che... Questa è un'altra fase che... Sì, perché c'è una mamma su cinque fortunata con l'allattamento, proprio nelle cose più tecniche. Io ho avuto un allattamento tremendo, avevo poco latte, lui non aveva fame, raga di mastite, cioè mi era venuto qualsiasi cosa. Sempre quest'ansia che devi allattarlo, il latte materno. Sì, ok il latte materno, ma se ogni volta che mi si deve attaccare al seno è un inferno perché soffro, perché diventa un momento non più piacevole con il mio bambino, molto meglio il latte artificiale. Quindi per quanto è allattato? Ma solo per tre mesi e mezzo, pochissimo. Vabbè, comunque non è neanche... Ma in clinica mi avevano detto, signora non vada a casa con un allattamento così difficile, però è la società, sono le amiche, sono le nonne, tutte che ti dicono devi allattare, devi allattare il tuo latte, il tuo latte lo fa crescere, lo fa crescere. E invece va alla fine... Ma lui poi è sempre stato inappetente, cioè aveva tre anni, gli davi lo yogurt, un cucchiaino di yogurt, lo passava da una guancia all'altra per mezz'ora. Cioè dovevo capirlo da subito che non ero un mangione. Ma e tu sei cambiata così da un momento all'altro? Cioè quando è nato Achille, sei cambiata... No, sei nata in casa e ho detto, e adesso dove ti metto? Sì, questa è la prima domanda che ti vai. Sì, dico adesso, sì c'è la tua stanza, però non ti posso lasciare lì da solo, quindi ovviamente i vizi si danno, perché i vizi si danno. Io non sono mai stata quella mamma che quando il bambino ti piange ai piedi non lo prende in braccio. Ma il fatto di avere... Tu hai un figlio soltanto? Sì, non ne sono venuti altri. Non ne sono venuti altri. E non ho più fatto nulla per... cioè non ho preso pillola, non stiamo stati attenti, però doveva andare così. Sì, doveva essere lui. Doveva essere uno. Figlio unico. Sì, anche io sono figlia unica. Anche tu sei figlia unica. E com'è il rapporto tra mamma e figlio? Allora... Sempre ho voluto un figlio maschio, perché nella mia famiglia sono tutte femmine. E quindi quando ho saputo che era femmina ho detto, bello, però... No, io avrei voluto una femmina e la volevo chiamare Penelope. Ah, ecco. Sì. Però poi quando mi hanno detto che era maschio, sono diventata subito una mamma di un maschio, secondo me. Non potevo immaginarmi... Io sono stata sempre una mamma che ha giocato tanto. Mi inventavo delle case con tutte cose di riciclo che avevamo, dalle bottiglie di plastica alle scatole dei Kleenex, facevamo dei finti ascensori, in spiaggia, buche, castelli, vulcani. Cioè, sono sempre stata molto... Fisica, sportiva, atletica. Mi piaceva giocare con lui, tanto. Sì. Bello. E siete praticamente cresciuti insieme. Adesso lui è un ragazzo, è un uomo, è quasi un uomo. Eh, me ne devo fare una ragione, sì. Beh, perché a 18 anni sì, sei praticamente... Sì, poi è alto come il mio marito. Ovvio che quando lo guardi nel letto dormire, dici ma... Tu sei ancora il mio bambino? Perché comunque quello è il suo odore, il suo modo di gesticolare, di... Però mi mancano i momenti in cui era piccola. Tantissimo. Che bello, no? Proprio mi emoziono quando ti vedo perché sento proprio il cuore di mamma. Cioè, sento proprio questo che è la cosa più bella di tutte. Perché poi ti fanno anche incazzare da morire, eh. Perché ovviamente... Ah, raccontami di questa parte dell'incazzatura. No, vabbè, ci sono dei momenti che parli proprio un'altra lingua, che ti trattano male, che ti rispondono male, sbattono le porte, ti mandano a quel paese, non ti rispondo al telefono. Cioè, quando tu gli dici sei mio bambino, lui come ti risponde? Ma no, ma non glielo puoi dire. Perché sei matta. Però mi immagino un giorno quando sarò mamma, che ti sdoppi, perché succede questo, no? Però c'è sempre bisogno un po' di stare anche in contatto con te stessa, no? Di trovare i tuoi spazi, di rimanere con il tuo compagno, il tuo marito, il tuo fidanzato assolutamente, di trovare il tuo momento. Di non essere solo mamma. No, no, impazziresti. In più, anche te come me hai iniziato a lavorare da giovane. Certo. Quindi per una donna la carriera, il lavoro, cioè comunque è un aspetto fondamentale, secondo me. Io non riuscivo a immaginarmi né solo madre, ma neanche solo donna in carriera. Cioè, mi piaceva l'idea di aver creato una famiglia, ma di poter mantenere quella che era la mia passione, il mio lavoro. Anche adesso ho appena finito una tornea teatrale di circa tre mesi, di due spettacoli differenti. Non mi sono sentita in colpa per quei tre mesi. A parte che adesso Achille è grande e poi mio marito era comunque a casa a Milano con lui, però ovvio che gli inizi il senso di colpa c'è. Ci si deve un po' lavorare, ci si fa anche aiutare, però non sono mai tornata da un lavoro con un gioco per Achille per compensare la mia mancanza in casa, assolutamente no. Però non ti devi assolutamente mettere da parte come donna, come amante, come moglie, assolutamente. No, è una cosa che io non mi immagino, infatti, cioè non sarei in grado di fare, non sono in grado di fare. Cioè io mi immagino che posso tornare a lavorare immediatamente, non so tu dopo quanto sei tornata a lavorare. Dopo un anno e mezzo, perché comunque quando ti pensano mamma ti pensano sempre lì con il bambino al seno, col pancione, insomma ti serve un po' di tempo per… Sì, per far capire agli altri che puoi essere tutte e due le cose. Ma sì, dai, oggi nel 2023 è giusto che sia così? Assolutamente. Noi donne non siamo molto… La sorellanza ancora sotto questo aspetto fa un po' fatica, nel senso perché trovi sempre quella che ti lancia la frecciatina, quella che ti dice ah ma tu non c'eri alla festa di fine anno dei bambini quando hanno fatto il coro di Natale, ho visto che c'era solo tuo marito. Sì, bene. Lavoravo. Però se lavoravo c'era lui, l'anno prossimo ci sarò io o viceversa, ci saranno delle momenti in cui ci saremo tutti e due. Cioè non c'è complicità tra le mamme, a volte… Ma non c'è neanche fra le donne, questa cosa è vera. Volevamo essere un po' più furbe. Sì, questa cosa è vera. E tra papà c'è, secondo te? Secondo me molto di più, molto di più, sì. E Billy com'è come papà? Meraviglioso. Io, a me è capitato di assentarmi da casa, lui gli cambiava il pannolino, gli faceva il bagno, gli dava il biberone. Assolutamente sì. Ma da subito? Sì, sì, bravissimo, bravissimo. Anzi ero più io quella timorosa nel fargli il bagno, perché non sai mai come prenderlo, ti dicono sì, ma anche per cambiarlo. Ma no, ma tirarlo su delle gambe come se fosse un coniglio. Sì, ok, però un attimo. Vabbè, era per essere chiari. Sì, esatto, esatto. No, no, lui è sempre stato molto bravo, ci siamo sempre dati un grande aiuto l'un l'altro, assolutamente. Qual è l'errore che mi consigli di non fare? Non so, ti senti che tu hai fatto qualche errore? Forse io gli ho sempre rotto troppo i coglioni per il cibo. Mangia, 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 ma perché il mio non mangiava. E quindi credo che a livello psicologico questo ha comunque un po' incrinato il nostro rapporto, perché poi loro ci giocano e lui mi teneva agganciata con il suo non appetito. Ah, ok. Sì, e quindi avrei dovuto delegare di più, magari farlo fare a mio marito, insomma quando sono ancora sul seggiolone, o comunque aspettare che fosse lui a chiedermi il cibo e io invece giravo per casa con la crema di riso, di tapioca, piuttosto che mille giochi sul tavolo, televisione, cioè io ero quella che non si porta un gioco a tavola, non si accende la televisione, ai tempi ancora, ai tempi, non parlo di 200 anni fa, però i tablet o queste cose qua ancora non c'erano, però i cartoni animati, la televisione, no, c'era di tutto, di più. Lui mangiava dentro una ludoteca, per riuscire a farlo mangiare, ludoteca simbolica. Certo, ecco hai l'inizio di questi momenti, cioè di questi momenti dell'inizio, di quando eri mamma, intanto mi hai detto che quando hai scoperto… Avrei buttato dalla finestra seggiolone, piattini, qualsiasi cosa, era il momento più brutto della giornata quando doveva mangiare. Mamma mia, immagino. Però non ho mai perso una notte di sonno, è stato bravissimo. Ah, ti ha fatto dormire? Sempre. Dormiva a porta chiusa, luci spente, tapparelle giù… Dal primo giorno. Da subito. Ma incredibile. Bravissimo in questo. Quindi succede? A noi è successo. Cioè è successo, può succedere. Allora, ragazza, hai capito qua come funziona? No, perché è bene che anche lei sia pronta a questo. No, mi dicevi prima che quando hai scoperto di avere il Covid, che sensazione hai provato? Come quando ho scoperto, ho letto il test del Covid, era come quando avevo letto il test della gravidanza. Avevo avuto lo stesso shock. Avevo firmato la mia prima tournée teatrale, che ovviamente ho dovuto cancellare perché non me la sentivo come responsabilità di prendere un impegno così importante in tournée. Non sapevo come mi sarei sentita. Poi sono stata benissima, ho fatto una gravidanza bellissima, però era tutto nuovo ancora. E poi quando l'ho comunicato a mio marito, mi fa… No, è positivo. Cosa vuol dire? No, gli ho letto i valori, gli ho letto i valori, i numeri, insomma, le cifre. E lui mi fa… Ma cosa vuol dire? Eravamo al telefono. Vuol dire che sei incinta? No, Ale, sono molto incinta. Che poi ai tempi giocava ancora. Quando tu chiamavi a Milanello, durante gli allenamenti, non te li passavano mai i calciatori, non ti collegavano mai con lo spogliatoio. Quindi se tu chiedevi di parlare con lo spogliatoio, era per una cosa molto importante. Quindi doveva essere un fatto… Quindi mio marito si era preoccupato molto. Poi hai chiamato Milanello? Ho chiamato Milanello perché dovevo dirgli che avevo avuto risultati e che ero incinta. Quindi lui è arrivato al telefono molto preoccupato perché pensava in un qualcosa di brutto, di grave. Certo. E invece era di molto bello. Wow, ma incredibile. Non sapevo questa cosa che mi sei chiamato Milanello. A Milanello non si poteva chiamare, tantomeno a farsi passare lo spogliatoio. Ma il cellulare? Eh no, mica li portavano gli spogliatoi. Ah, non c'avevano i cellulari. I tempi erano molto più rigorosi di adesso. Pensa, è incredibile. Adesso immagino che abbiano un cellulare. Io sono entrata la prima volta a Milanello con la carrozzina quando Achille aveva tipo 3-4 mesi, ma non avevo mai messo piede a Milanello. Ma davvero? Perché non si poteva? No, erano tassativi su questo. Cioè era proprio un luogo sacro dove bisognava rispettare determinate… Assolutamente sì, assolutamente sì. Incredibile. Poi è cambiato un po', diciamo, nel tempo. C'era più rigore. E ci fermiamo qua. Tu sei rigorosa? Troppo rigorosa, sì. Con te stessa? Sto lavorando con me stessa, sugli altri, al lavoro e quindi spesso la tanta professionalità viene un po' fraintesa, però ecco ci sto lavorando, ho iniziato insomma un percorso personale su di me di accettarmi per come sono, di accettarmi nell'errore, nello sbaglio, nell'insicurezza. È inutile far sempre credere che sei forte, che ce la fai da solo, che sei infallibile, perché, non so, i tuoi genitori ti chiedono questo, in famiglia ti chiedono questo, sul lavoro ti chiedono questo. Quindi tu cerchi di non deluderli, no? Però, insomma, metti poi in atto un carattere e un'immagine di te che non è poi così reale, così concreta. E quindi rischi un po' di non essere più te stesso. Allora, momento domande scomode. Urca, non me l'avevate detto? Cosa faresti se tuo figlio ti scoprisse in atteggiamenti intimi con il tuo compagno? Viva l'amore, nel senso tesoro, ormai ha 18 anni, anzi, sarebbe più strano se io scoprissi lui. Non è mai successo? Che l'ho beccato no, anche perché domani mi dice avrei bisogno di casa, domani è pranzo. Giustamente, noi andiamo al ristorante. Ah, e voi andate? Quindi diciamo un detto non detto. Poi no, magari viene con cinque maschiacci, non lo so. Però ogni tanto lasci la casa. E al contrario invece non è mai successo? No, non è mai successo. Vai, altra domanda scomoda, sono molto divertenti. Era troppo semplice, vero? Sì, questa era troppo facile. Cosa speri che tuo figlio non scopra mai di te? Sì, ma io ultimamente ho deciso di essere molto onesta con mio figlio, anche perché quando ha scoperto delle verità che magari io gli avevo nascosto, sulle quali mentivo, ma mentivo semplicemente perché ancora era o troppo piccolo, o perché secondo me non era una notizia fondamentale che lui la sapesse, o perché ci sono anche alcune cose che non è giusto che i figli sappiano. Quindi è giusto che la mamma se le tenga per sé. Non sono una Kate Moss della situazione, piuttosto che, insomma, non ho diviso l'atomo, non ho fatto grosse cose. Quindi, che cos'è che non voglio che scopra? Le maracchelle da ragazzina. Ma ero così rimbambita da piccola, Diletta, guarda, ero veramente finta. Nel senso che mia madre non mi ha mai dato uno schiaffo, non mi hanno mai messa in castigo da piccola, non ho mai scavalcato la finestra per uscire, non sono mai dovuti venirmi a cercare chissà dove, non mi hanno mai beccata, non mi sono mai drogata, cioè sono molto noiosa. Eh sì, me ne rendo conto. Vai, prossima. Non sono abbastanza piccanti, però, queste domande. Eh, aspetta che... Perché mi lasci per andare al lavoro? Ah sì, questo me l'ha rinfacciato una volta. È vero? Sì, lo stavo salutando per un campus. Eravamo in aeroporto a Manchester e iniziava questo campus di due settimane. Allora gli ho detto, Aki, come farà la mamma senza di te due settimane? Come ho fatto io quando sei andata a Belgrado a girare la fiction. Oh, wow. Ma era passato tipo, boh, un cinque o sei anni. Ma incredibile, te l'ha tirata fuori così? Sì. E lui era rimasto a Forte dei Marmi con il papà, una tata e i miei genitori che non tanto l'erano anche andati a trovare. Forse perché il maschio è anche un po' geloso della mamma, cioè c'è una sorta di protezione in più. No, allora, gli scoccia quando qualcuno mi guarda al ristorante, in giro per strada, allora spiegargli, guarda Achille, che anche se tu vedessi una famosa o un famoso ti fermeresti per strada o comunque le guarderesti, cioè non fanno commenti indelicati, mi guardano semplicemente. Il nostro essere famosi non l'ha mai infastidito, però ancora adesso, nonostante ormai sia grande, questa cosa che gli altri mi guardano un po' lo disturba. Un po' gli dà fastidio. Sì, sì. È perché sei la mamma, perché poi è il maschio che protegge la mamma, che non vuole che nessuno la toglie. Poi io non sono una che veste particolarmente sexy, magari sì, posso ogni tanto fare delle foto. E' uscita una copertina ultimamente di un settimanale, dove era una foto in bianco e nero un po' più sexy e lui mi ha detto… Poi però non ti lamentare se su Instagram ti scrivono… Ah, tipo un siciliano del 1932. Un po' la butta lì. Pur uomo del sud. La butta lì. Vai, altra domandina scomoda. Come reagisci se scopri che tuo figlio ha saltato a scuola senza dirtelo? Ah! Quante brutte parole di fila riesci a dire, un record storico. No, la sua frase storica è sempre stata… No mamma, non è come credi. E com'è? Dopo una nota, dopo un'espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket, cioè… No mamma, non è come credi. Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai poi con la realtà. E tu come reagivi? Mamma, non è come credi. Cioè, come reagisci anzi? Ma inizialmente lo mettevi in castigo, poi gli toglievi delle cose, poi invece hai lavorato come dicevo prima sui premi, però poi insomma devono anche loro sbagliare, prendere delle porte in faccia e arraggiarsi un po', perché non ci puoi essere sempre tu per loro. Certo. E poi arriva quel punto in cui ti senti anche tu poi un po' in colpa, diciamo, senza bisogno che ci sia la tua madre che ti faccia sentire in colpa. Ma sai cosa? È che in quei momenti… Lui le ha prese anche due sberle, anche più di due. Da te? Sì, sì. Da me, dal padre, sì, 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 assolutamente. Non so che cosa funziona con i nostri figli. No, eh? Assolutamente no. E tu che cosa speri che faccia Achille da grande? Che sia felice. Perché io glielo ripeto sempre che la vita è meravigliosa ed è più semplice di quello che loro immaginano, nel senso che loro hanno mille paturnie in testa, hanno mille distrazioni, però sono discorsi da vecchia, sentirseli fare a 18 anni, però ecco, è proprio quello che alla fine prenda una laurea o che apra veramente una piadineria a Miami, come sta dicendo in questi giorni, che si fidanzi con un ragazzo o che abbia una moglie e faccia un figlio e che se, non lo so, cioè, vale tutto, va bene tutto, l'importante è che possa veramente guardarsi allo specchio e sorridere. Grazie mamma Marti, è stato bellissimo parlare con te, ho preso un sacco di appunti. Eh, guarda! Allora, passami gli appunti che hai preso dalle altre mamme, e poi faccio un confronto. Esatto, esatto, facciamo un va de mecum. Va bene, va bene, grazie mille. Tanti auguri. Grazie. 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 Grazie.